Oggi abbiamo presentato i dati sulle ricadute economiche dell'evento Eurovision di Torino del 2022. È molto importante capire come questi grandi eventi, che hanno anche un costo organizzativo, quali ricadute generano sul territorio. Quindi abbiamo misurato gli oltre 128 mila spettatori, qual è stata la loro spesa diretta e poi anche la spesa dell'indotto, delle aziende che hanno lavorato per l'organizzazione. E quindi sono stati consuntivati circa 23 milioni di Euro generati direttamente. Oltre a questo è stato misurato attraverso un metodo scientifico le ricadute economiche dell'impatto mediatico, quindi la presenza sui media, dalla stampa, ai siti web. Quanto sarebbe costato comprare questi spazi che sono stati generati dall'evento? E' stato quantificato l'importo di 66 milioni di Euro. Quindi 66 milioni più 23 milioni. Oltre ai 161 milioni di telespettatori che hanno avuto sul loro schermo la città di Torino quella sera. Quindi questo credo avrà sicuramente una ricaduta di consapevolezza, di branding della città di Torino a livello internazionale.